Torniamo a Cannes ed è tutto finito. Un vulcano. E poi... Non è il momento per farsi un giretto. Cazzo! Un vulcano. Un vulcano. Un vulcano. Non stai facendo. Non sai fare. Sono sotto il canto. Ho bisogno di riporti. Un vulcano. Un vulcano. ti ucciderò ma lo sai con chi hai non 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 Quirurk, Jonah Maievà allo sgriglio e Lara Croft è stata avvistata nella chiesa. Trovateli. L'hanno lasciata sola nella chiesa. L'hanno lasciata sola nella chiesa. Là dentro era il delirio. Ovviamente, ma era Croft. C'era qualcosa di più importante di cui preoccuparsi. Questa gente non muorla mai Sarà facile trovarlo L'hanno lasciata sola nella chiesa Là dentro era il delirio Ovviamente, ma era croc C'era qualcosa di più importante di cui preoccuparsi Come può pensare di scappare? Rul, l'avete ancora trovata? No, signor, forse In posizione! Non è un colpe della voce! Non è un colpe della voce! Non è un colpe della voce! Soposto sul pianto! L'hanno lasciata sola nella chiesa Là dentro era il delirio Ovviamente, ma era croc C'era qualcosa di più importante di cui preoccuparsi Come può pensare di scappare? Non l'avete ancora trovata? No, signore Mi spiace Dovete riuscirci Lo scrigno ce l'ha il suo amico Stanatela Non può scappare da qui Stiamo subendo E state uniti Cristo! Devo capire che è succedere C'è qualcosa da su! E tu da dove stai? L'hanno lasciata sola nella chiesa Là dentro era il delirio Ovviamente Ma era croc C'era qualcosa di più importante di cui preoccuparsi Questa gente non mu- Si che si tratta E tu a te O Crizo! E tu non mi sbagliare Che dipesa! È gutta la luce Non l'avrà fatto sbagliare C'è qualcosa da? C'è qualcosa? Ti vuoi bene? Ti sento fuori di testa Ti vuoi ammazzere La maledizione ci sta abbastendo Non mi va passerare prendete posizione, armi alla mano non c'è niente di disonorevole nell'area ho un quadro avamposto, inviate un'altra unità alla mia posizione jonah, dove sei? sono nel canneto, qui non mi vedono resta a riparo, sto arrivando a tutte le unità nel canneto, priorità, trovare Lara Croft sentite il comandante, andiamo a caccia Croft, lo so che sei là fuori avrei dovuto ucciderti in Siberia ma Dominguez non era d'accordo ho commesso un errore ma ho intenzione di rimediare ora nemico lo so che sei là fuori avrei dovuto ucciderti in Siberia ma Dominguez non era d'accordo ho commesso un errore ma ho intenzione di rimediare ora ehi, dove sei? ah, non mi piace messaggio di Rurka mi ha scosso ah, dannazione cazzo d'accordo, andiamo seguitemi presenza lo so che sei là fuori lo so che sei là fuori ehi, dove sei? ah, non mi piace se Croft ti ha piede libero non si tratterrà da queste parti d'accordo, andiamo seguitemi ehi, a dov'è Jameson? Cristo santo avevo appena smesso di parlarci ascoltate tutti Jameson è scomparso serrate, avanzate vedo un cazzo fa che stia bene nuova posizione ehi per fortuna il camion è a posto c'è qualcosa poi spero non faccia stronzate stai pazzai stai Sto impazzendo. Non vedo niente. Tutto pieno. Non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro. Cardinal Sei, troppo non vistata. È alla distilleria. Quadra diaconi arrivata. E alcuni arrivati, comandante. Prendiamola. Non è comprovante, alcuni spazio. Non c'è nient'altro. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lara, sono sull'elicottero. Ho un pilota. Cosa? Presto. Grazie a tutti. Ma cosa? Dammi lo scritto. No! 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 Stai bene? Sto bene. Sto bene. Ok. Jonah! Oddio. Pronto. Ok. Ci sono, sto bene. Ma che ti è saltato in mente? Se fossi stata tu, avrebbe funzionato. Non andranno lontano. Vai. Vai, non preoccuparti. Ah, te... No. Mi devi, mi devi, mi devi. Ricardino a loro, fotore in stato. No, no, no! 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 No, no, no! No, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Questo rito devo completarlo da solo Si stanno sbagliando È tutto sbagliato No Gli spetta di diritto Dacci lo scritto No, no, non posso Devo proteggere Paidini Tutti creiamo il destino Non solo tu, tutti noi Insieme È starda finora Attacca! Qui comandante Rurk Tu se le unità rimanze Tra la campagna Entra trattata Tra tutte le unità Rinforzare gli sparramenti Megliore Lasciate entrare in seguito Il rituale è quale terminato Qui comandante Rurk Il rituale è quale terminato Sarete tutti salvati E chi avrà dato tutto Verrà debitamente ricompensato Siamo tutti qui Siamo tutti Non puoi fermarci Non è vero, non è vero. Mi prego! Johnny, Rurk è morto. Cerco Dominguez. Devo fermare il rituale. Li terremo a vada al più possibile. Lo ripetono! No! 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 No 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 no! No no no! No 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 no!